Le opere come esperienze emozionali. Fabiola, che progetto ha messo in campo? Che cosa ha ideato l'Associazione Italiana Malattie di Alzheimer? È un progetto per la città di Fano, per le famiglie della città di Fano e per le persone che vivono nella città di Fano e si trovano a dover affrontare una malattia neurocronico-degenerativa come la malattia d'Alzheimer. Si intitola L'arte che cura ed è un progetto di crowdfunding che la Fondazione della Cassa di Risparmio, e io ringrazio anche la Fondazione della Cassa di Risparmio, ci ha dato la possibilità di vincere. Attraverso una rete nazionale di crowdfunding, che è la rete del dono, si possono fare delle donazioni che possono veramente essere anche piccole che vanno a incrementare una somma che se noi raggiungeremo, che è di 10.000 euro, si raddoppierà, la Fondazione ce la raddoppierà. Quindi il bello è proprio questo, perché noi riusciremo a garantire, con questa somma raddoppiata, se raggiungiamo 10.000 euro entro il 31 gennaio, una assistenza domiciliare, quindi un'assistenza di prossimità, attraverso la pittura, la scultura, il disegno, la manipolazione, l'immaginazione, quindi attraverso il colore, la plasticità, arriveranno a far emergere le parti emozionali delle persone malate che sono sempre vive, ma purtroppo sono sommerse. Sempre a favore di Aima e dei loro progetti è stato organizzato un concerto, Stefano. Esattamente, il 5 gennaio saremo con un omaggio a Lucio Dalla, intitolato L'anno che verrà per augurare l'inizio dell'anno, alla Sala Verdi del Teatro della Fortuna, per raccogliere fondi a favore di Aima. Insieme a me sul palco ci saranno Fabrizio Bartolucci, che sarà un po' la voce guida di tutta la serata, Tommy Baldini alle chitarre, Roberto Panoroni al basso, Luca Giavono alla batteria, Danilo Rovino alle tastiere e avremo anche l'ospite graditissima, Elisa Ridolfi. Dov'è possibile acquistare i biglietti? I biglietti saranno disponibili e sono disponibili già da oggi al Teatro della Fortuna e in pre-vendita su Viva Ticket. La serata sarà un viaggio attraverso le canzoni di Lucio Dalla, anche con alcuni riferimenti ispirati ai testi di Alda Merini, Roberto Roversi e altri poeti del mondo dalliano, per evocare i temi della cura, dell'assistenza e, perché no, della perdita della memoria.